Abbiamo avuto tutti quei momenti in cui avremmo voluto tirar fuori qualcosa di divertente da dire, ma la nostra mente non è stata d'aiuto. E può essere frustrante, soprattutto quando parli con qualcuno su cui vorresti fare davvero colpo. Per cui, in questo video, ci occuperemo di quattro semplici modi con cui puoi far ridere le persone e fare in modo che adorino stare intorno a te. E lo faremo analizzando alcune clip del re del sarcasmo, Ryan Reynolds. Alcune persone pensano erroneamente che questo tipo di umorismo sarcastico ti renda uno stronzo, ma quando viene fatto bene, può fare in modo che le persone ti apprezzino immediatamente. Partiamo subito dall'abitudine più semplice che puoi rubare a Ryan. Esagerare così tanto che prenderti sul serio diventa impossibile. Guarda questo esempio veloce dopo che Graham Norton ha chiesto a Ryan se avesse successo con le ragazze crescendo. Ci sono due situazioni in cui questo tipo di battuta è davvero utile. La prima è quando devi rispondere a delle domande potenzialmente noiose durante le chiacchiere. Se riesci a trasformare le chiacchiere noiose di qualcuno in una conversazione divertente e giocosa, quella persona ti apprezzerà. Detto ciò, un errore comune con il sarcasmo è dire qualcosa di potenzialmente credibile, e questo può confondere le persone o farle arrabbiare. In contrasto a questo, guarda quanto sono palesemente false le risposte di Ryan in questa intervista per Wired con Jake. Ora, tu sai che la battuta sta per arrivare e quindi il suo effetto non è molto forte, ma nella tua vita la maggior parte delle persone che fanno domande noiose per chiacchierare non si aspetterà che tu rispondi in modo divertente. E quando lo fai, ti distinguerai come più divertente rispetto al 95% delle persone, che danno risposte noiose. In aggiunta a come rispondere alle domande, puoi usare queste risposte del tutto esagerate anche per far ridere le persone quando racconti qualcosa. Per un esempio, ascolta mentre Ryan parla e racconta di quando ha lavorato con un attore bambino per la prima volta. Tutto ciò è particolarmente efficace se lo fai da negativo. In generale, a nessuno piace ascoltare qualcuno che si lamenta. Esagerando però il livello di ansia che stava provando, Ryan fa in modo che le sue lamentele siano divertenti da ascoltare. Ed eccoti un altro esempio della stessa intervista, in cui Ryan parla di come gli studios abbiano cercato di farlo legare con la coprotagonista di dieci anni. Ora, anche se è divertente, se il sarcasmo negativo è lo stile d'umorismo che usi di più, alcune persone potrebbero non reggere la tua negatività. Puoi evitare tutto questo facendo in modo di terminare le tue storie con un risvolto positivo. Guarda qui come Ryan conclude quella storia in particolare. Una cosa che hai visto durante tutta quella storia e che ti aiuterà a rendere molto più divertente se qualsiasi battuta è l'essere specifico. Per esempio, paragona questa prossima clip all'eventualità in cui Ryan avesse solo detto che i suoi figli lo stancano. Se non sei bravo in queste cose, un modo semplice per fare pratica è tramite il metodo dell'occhio interno. In pratica, quando vuoi che qualcuno rida, cerca di evocare un'immagine assurda nella mente dell'altra persona. Ti faccio un esempio. Ryan ha fatto un film con Denzel Washington ad un certo punto e Ryan lo ammira davvero. Invece di dire semplicemente quanto lo ammira, ascolta come Ryan crea un'immagine falsa e divertente che puoi vedere nella tua mente. Ora eccoti altri esempi veloci. Fai caso a come ottieni una risata tutte le volte che sostituisci una frase generica, come ad esempio non pagano bene, con un'assurda immagine mentale. Guarda. Do you care? After you make so much money, do you even care if it flops or not? How do you know? I work for 20th Century Fox. What do you think? I'm paid in spit and insults. This is like, this is an American-made gin. It's an American gin, a little smoother than our, it's British counterparts, a little more drinkable. Wow, I sound like a pro. Yeah, you're actually good at that. I really know nothing about gin. If I ran the company for real, it would be on fire. I used to say to her, I would take a bullet for you. I would, I would, I could never love anything as much as I love you. I would say that to my wife and then the second I looked in that baby's eyes I knew in that exact moment that if we were ever under attack I would use my wife as a human shield to protect that baby. Questo tipo di umorismo secco potrebbe sembrare difficile all'inizio, perché devi essere in grado di pensare velocemente al momento. Ma, come ogni altra abilità, diventa molto più semplice con un po' di pratica. Puoi farlo a livello formale con corsi di improvvisazione come ha fatto Ryan, o puoi farlo informalmente semplicemente facendolo diventare la tua priorità la prossima volta che ti troverai in un ambiente sociale. Se sceglierai la seconda opzione, potrai prepararti al successo usando un po' di carica. Detto semplicemente, se sai che ti troverai in una situazione in cui vorrai essere sarcastico, prenditi 5 minuti per guardarti un video prima di entrare in quella situazione, e guarda qualcuno come Ryan, Chris Pratt, o chiunque abbia il senso dell'umorismo che ammiri. Questo ti caricherà e ti porterà a pensare come fanno loro. La prossima tecnica che puoi rubare da Ryan è il metodo dell'inganno, o fake out. È qualcosa che puoi fare ogni volta che racconterai una storia, ma è particolarmente facile se stai dicendo qualcosa che le persone si aspettano sia sentimentale. Guarda questo esempio veloce di Ryan che parla di come è diventato l'investitore dell'Aviation Ginna. E poi abbiamo avuto i nostri figli e è quando ho capito che amo Ginna. È solo una passione. Un trucco carino se vuoi essere sicuro di ottenere una risata è rallentare o fare una piccola pausa prima di arrivare al cuore della battuta. Questo farà in modo che chiunque ti stia ascoltando cominci a riempire quel vuoto in modo scorretto nella sua mente. Così sarai ancora più sorpreso dal tuo colpo di scena. Eccoti un altro esempio. Questa volta Ryan sta parlando di come ha fatto un occhio nero ad Enzel Washington mentre giravano Safe House. Ora, un errore comune che le persone compiono quando imparano ad essere più carismatiche è mettere un sacco di pressione su se stesse per potersi esibire davanti agli altri. Ironicamente, la cosa migliore che puoi fare è prendere le tecniche di questo video, che trovi divertenti, e fare pratica con quelle. Ryan non è divertente solo grazie alle parole che dice. È divertente grazie al suo tono, la sua energia e il suo linguaggio fisico. Ma invece di cercare di imitare tutto ciò di proposito, è molto più semplice per te se ti concentrerai sul divertire te stesso e passare dei bei momenti. Se lo farai, quei segnali inconsci miglioreranno automaticamente. Per esempio, ascolta Ryan mentre parla di come è diventato talmente bravo nel doppiaggio fino ad arrivare al trailer del film di Deadpool. In base al tuo punto di partenza, essere sempre giocosi potrebbe sembrarti troppo, per cui dovrai cominciare andando leggermente fuori dalla tua zona di comfort. Ma alla fine, ciò a cui dovrai puntare è trovare lo stile di battute che ti fanno sorridere naturalmente e ridere mentre le racconti. Questo ti porterà a divertirti molto di più in una conversazione e le persone vorranno starti sempre più vicine. Quella sfumatura per tutto ciò è, se vuoi che alle persone piaccia stare intorno a te, probabilmente sarebbe meglio costruire l'abitudine di essere positivo con il tuo umorismo. Per esempio, paragona il modo in cui regiscono Ryan e Jake quando questa donna fa una battuta. Come appena visto, sia l'umorismo positivo che negativo possono far ridere le persone, ma quando coltivi un senso positivo, inviterai l'altra persona ad essere più giocosa e continuerai a divertirti nelle conversazioni. Rendila un'abitudine e diventerai la persona con cui tutti non vedranno l'ora di parlare. Ora, far ridere le persone ovviamente è solo una parte della conversazione. Che tu stia cercando un nuovo mentore, più amici o più appuntamenti, ci vuole molto di più per formare una connessione con qualcuno rispetto a quello di cui ci siamo occupati qui. Devi essere in grado di cominciare con sicurezza una conversazione, attirare l'altra persona nei primi minuti così che vorrà saperne di più su di te e poi costruire una connessione abbastanza forte affinché voglia vederti un'altra volta. Se vuoi una guida passo per passo che ti spieghi come conquistare velocemente queste abilità, potrebbe piacerti il nostro programma, la Carisma University. È un programma di 30 giorni che ti porterà ad affrontare e superare tutte le tue insicurezze e ti trasformerà nella persona che hai sempre desiderato essere. Ti spiegheremo come affrontare qualsiasi prima impressione. Ti porteremo a far emergere e mantenere nel tempo un'autostima solida come la roccia. Io ti lascio il link della Ciu in descrizione, però prima vorrei tanto che tu sentissi l'esperienza di uno dei nostri studenti. Il mio più grande successo è stato ottenere più sicurezza. Se mi avessi incontrato un anno fa, avresti visto un ragazzo socialmente impacciato, ma quello stesso ragazzo aveva una sicurezza ed un carisma nascosti che adesso sono venuti fuori. Se stai leggendo o ascoltando ora, pensa a chi vorresti essere tra un anno. Questo corso ti insegnerà come diventare quella persona. E se ti unirai alla Carisma University, avrai una garanzia soddisfatto rimborsato di 15 giorni. La Carisma University deve essere lo strumento che ti permetterà di portare la tua vita al livello successivo. E se non è così, non è nostro interesse trattenere i tuoi soldi. Non hai nulla da perdere. Guarda, puoi solo guadagnarci una sicurezza solida come la roccia. E se vuoi saperne di più, clicca il pulsante che compare ora. Oppure trovi tutto in descrizione. In ogni caso, spero che ti sia piaciuto questo video. E non vedo l'ora di vederti nel prossimo. Un abbraccio. E non vedo l'ora di vederti nel prossimo.